Siamo a Valencia! Che figlio! Oh oh oh! Vai Leo, scatenati! Non siamo molto in discoteca, ragazzi. Oh oh oh! Hola, perdonate! Eccoci qua! Stiamo in un controllo. Qui siamo? Stam! 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 Ciao, buona giornata! Ciao, buona giornata! E poi Leonardo. Ok. Bello! Palese! Spagna, di teglia. Ma si va con questa? Questa è la più piccola del lotto che c'è andata. Sì! Ma chi sa le altre? Beh dai, tirai un bel passaggio. E' la più piccola del lotto? Perché quali altri vi è andato? Un RS5, un RS6. Leo, tu l'RS6 che ti piace? Bellissimo! Raga, che bello! Finalmente! Prima volta che la guido! Ciao ragazzi, grazie mille! Ciao a voi, buon divertimento! Leo che ha un po' paura perché è un po' altina la moto. Che figo! Wuhuu! Che figo, vecchio! Che figo! Tutto il più un carabiniere! Che sirene! Ho messo Willy controlla al minimo. Mi guardi se ti ribalzi. No, veramente. Siamo a Valencia! Wuh! Che figo, raga! Sono gasatissimo! Vecchio! Mi conosciamo! Siamo a Reva! Leo, cosa guardi? No, guarda del tipo! Sì sì! Attenti qua perché ci sono un sacco di telecamere... Ok! Eccoci qua! Passo di troppo! Dove? Ah! Vi chiediamo dov'è l'Oceano Graphic? Ah, ci sta! Come non avere più la moto già alla massima? Che faccio! Sequestrato! Allora, perdona, dove sta l'Oceano Graphic? L'Oceano Graphic? Sì! Lo vieni, mi dà! Lo vieni sentito da lì! Mi sa che qua siamo dall'altra parte! La navigazione va su un Oceano Graphic in Valencia! L'Oceano Graphic, dove sta? L'Oceano Graphic, dove sta? L'Oceano Graphic, dove sta? Ah sì? E alla scherza? Aspetta, grazie! Ci sta una crema! Sì! Una crema catalana! Guarda che bello! Bellissimo! Madonna! Ti stava aggiornando lo dog! Ferro salsiccia! Che bello! Sicuro ci fermano! Non possiamo stare qui, d'accordo? Il ferro non mi stanno? E' il pezzo del teatro! Ah! Non è solido! Ah, perdone! Sì sì, per supuesto! Ci hanno cacciati da lì, perché a quanto pare era il tetto! Ci spostiamo e troviamo un altro punto per fare la foto! Guarda che bello! Ah, perfetto! Questa bene! Grazie! Bicicletta sì, però moto no! Ma che bello! Finalmente posso dirvi! Questa è la mia vera nuova moto! La Street Fighter me l'aveva andata in condato d'uso! Quindi adesso che finalmente è uscita! Posso dirvi che è proprio mia! Cioè me la sono copiata! E quindi Ducati mi ha organizzato questo ritiro speciale! Me l'ha mostrata in anteprima! E sono contentissimo perché finalmente posso modificarla completamente! Questa è la motarda che ho sempre voluto prendermi! Cerchi bicolore! Bellissimo! Al wheelie control! Un botto di roba! Guardate che figo il doppio scarico! Bellissimo! Sono contentissimo! Finalmente potrò cambiare lo scarico! Mi sto già organizzando un po' lo scarico per questa! La Street Fighter è ancora in condato d'uso! Quindi potrò usarla ancora un po'! Quindi probabilmente mi vedrete un po' con l'una e un po' con l'altra! Finché ancora ho accomodato! È proprio figo sto posto! Su! Lento! Che bello è avere le palme in città! Anche noi le abbiamo in nuovo! Nuovo! Sai cosa potremmo fare? Andare davanti a un liceo! Hai notato che praticamente nessuno suona i classo? È vero! Assurdo! Sii! Io non capisco tutti questi semafori! Io avrei messo una rotonda senza semafo Adesso vado a staccarlo Mi chiamo Flexi Man Leo andiamo a mettere i tapas Le patatas bravas Ah buone cavolo E il pan con tomate Con jamoni beric In schiaggia però Ovvio Intanto dovresti stare un po' più indietro Perché c'è la riga gialla Guarda sei proprio sopra Leonardo Mi sa che ti devi un po' levare da c***o Calamaretti e pan con tomate Bellissimo Cosa va a ridere A volte si mette anche col microfono nel canto Buona serata ragazzi Grazie a te Nuova Sì sì Vamo se la playa Ok Così è un po' come Milano Leo con le borse che non ci passa C'era palesemente il velo No no Mi gasta un botto sta moto Ti viene proprio a cazzeggiarsi Ma è nervosa? No no in realtà è morbida È assurdo comunque che nessuno suoni Io veramente la spagna l'amo Mi trasferirò qua Questo è tipo la padova col mare Siamo in veneto la figa È uguale Leo l'ho perso di nuovo Chiede una figa Mi strai Ci passi ci passi Vai sereno Come dia I've ho fatto l'occhialino La tiffa vi ho fatto l'occhialino come è il nuovo hypermotor? fantastico, il nuovo è molto più agile è il GM690, no? sì, ho avuto ho avuto anche oh, bello buon invito sì, ha detto che sono un bel ragazzo è vero, hai ragione hai ragione, hai ragione io ti giuro mi sto divertendo un bosto cioè è proprio tutta tutta bellissima come andasse di là la strada aspetta che figo che bello è bellissimo guarda quanta gente che belle vibe sono bellissimo abbiamo deciso di fare un salto in spiaggia che abbiamo visto che ci sono un bosto di ragazzi tocca per parte ma è Leo scatenati se non trovo la fidanzata qua mi arrabbio boh zio, forse che dovremmo venirci più spesso è quella lì tua moglie, per caso, non la vedo bene può essere Leo, 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 la palla Leo, la palla, la palla perdone, sono un pochino lento grazie aspetta che devo stare attento che non mi entri la sabbia ah, povero devo stare attento che non mi entri la sabbia nella spiaggia nelle mie scarpe nuove oh, mi dichiamiamo Jack? ciao nooo dai, uno cento, che andiamo a dare alle tippe se giuro vado a fare dai 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 fai niente! oåååååååå oddii NON CINAH 100 Allora Leo, quella è il piano, tu che ci sei fare? Boh, cosa facciamo? Dai, chiediamo a un gruppo di ragazzi Pronti, 3, 2, 1 via Andiamo in moto a 200 all'ora e non abbiamo il coraggio di chiedere a un gruppo di ragazzi Proprio così Sorry, anybody that speaks Italian or Spanish? Spagnolo? Maybe in English Are there events, parties tonight? We're from Italy Do you know if there is something or anything to do, like, cool? On Sunday, I'm not sure Ok, so we go back in time Sorry? Free beer Sorry? C'è bira gratis No, no, no Oh, nice Bira no, è discoteca Mia, si chiamano Mia Ah, Mia We're not very discoteca, guys Was it called Mia? Ok Thank you Thank you very much Bye, bye, have a nice night We liked them Obvio Oh, they were Italian Buh Buh Otro cycle Buh 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 Spanica Buh S- Buh 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 che ora? 4 minuti a 5 minuti si, 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 sta bene abbiamo trovato un rato uno ci siamo inseriti e ci portano in un circuito abandonato molto grazie, ci vediamo domani che libero siamo in un controllo ah, li hanno fermati vecchio ah, la polizia? si arrivo, arrivo dove sta la polizia? guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda bene, sta bene con questa, abbiamo la moto a la izquierda guarda, 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 guarda guarda, guarda, guarda guarda, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda, guarda come sei? qui con la polizia a mio amico lo hanno multato si, per cosa? il deve killer qui in spagna a me una volta per non portare 2.000 euro 2.000 euro? molto bene, ciao 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 Quindi in Spagna non ti dicono cosa devi pagare? Depende, ci sono alcuni che sì e altri non. Quando non sei homologato non ti lo dicono, quando sei che sei homologato ti ponen 200€ e già sta. Però se non sei homologato e non ti faccio il DBKILLER. Esa multa la decide il ayuntamento. Ah ok. E io non ho niente homologato, mi hanno detto che si la iban a llevar. Ah si? La moto? Si, la moto che si la iban a llevar. Perché le ho posto il DBKILLER, le ho posto il tornillo un poco e quando ho arrivato alla rotonda se ha ido il tornillo. Ci portano nel piscino. Che figo! Che figo! Ma che fighissimo! Oddio ma che ridere! Oh vuoi bonito! Che figo è! Che figata! Ma non ha senso sta roba! Ma poi ci puoi entrare anche con la macchina! Si si, ma poi in città! Scusa le case qua! Si si, ma con il bordo dicono! Mi gusta mucho! Buongiorno! Buongiorno! Oddio! Beh, è molto simile al C90! Si, molto simile! Ti senti un figo sopra! Vero, è molto simile al C90! No, ma ho paurissima! Eh, pronto Leo? Vai! Ma che bella è! No, oggi è bellissima! Vero che è bellissima! È bellissima! È bellissima! Ma fai una partenza! Guarda come va! No, oggi è bellissima! Un gattino! Un gatto nero! Guardalo! Ragazzi, va fortissimo! No, è bellissima! No, è bellissima! Vero! È bellissima! No, è bellissima! Ti giuro! No, un altro mondo! Cioè questa qua sembra di guidare una sportiva, una naked, però con la ciclistica giusta che vai giù in curva e ti tiene! E ti tiene, sì! Ti tiene perfetto! È lineare! Cioè non è scattosa! Sì sì, è super lineare! Più che altro adesso non so come si tolgono i controlli! Stavo provando ad alzarla, ma quando la alzi, avendo il wheelie control te la riporta giù! Ci sarà tempo! Car un citone! Dobbup, dobbiamo! proportion,,raftеро! Non è una cosa che... Che figo! Qui viene l'arroz della paella. Tutto ciò che abbiamo visto venendo, sono scampos di arroz. Ah ma dai! Hai capito? Fanno l'arroz qua. Salsesco! Delle grandi coltivazioni di arroz. Un compatriota italiano. Oh, grande! Mitico! Eh certo, hai visto il nuovo motard? Ma va? Il 698. Bellissimo! È vero? Una linea stupenda. Hai visto, sì. Una linea da una bella donna. Eh, esatto! Tu vedi questo cazzo? È come vedere una bella donna. Ciao ragazzi! Ciao, buona giornata! Ci siamo intrufolati in un gruppo di spagnoli. Eh bene, anche noi a volte ci vengono intrufolati. Eh, ci vuole, ci vuole. C'è un po' un gemellaggio tra Italia e Spagna. Eh sì, siamo tutti con le moto, quindi ci siamo ritrovati. Non so, di centauri. Comunque gli italiani sono ovunque. E soprattutto i più belli. I più? I più belli. I più modesti, ovviamente. Com'è vivere qua? Beh, guarda, dovevamo stare 6 mesi, siamo qua da 11 anni. Vabbè, hai visto? È un mega romantico. Sì. Vabbè, ci facciamo Leonardo. Lucchino mi porterà in discoteca. Che le ragazze di oggi ti hanno detto che è tanta roba. Sì. Eh no, io devo andare dietro con la Ford Focus. Dovevo fare. Noi possiamo, vero, con la moto? Però non mi vedi. Senza vero, ovviamente. Ma ci sa. Ovviamente hai comprato un pezzo giusto. O no? È proprio da me. Ma guarda. Luca ci porta a mangiare la peglia. Woo! E dopo? Stasera ci penso io perché andiamo. Magari troviamo il nostro amore, no? A Valencia. Se l'abbiamo mai trovato a Milano in 27 anni. Tu sei ormai un trentenne che la tua vita l'hai vissuta e lascia vivere i nostri mesi. Anche basta. Mamma. Ma quanto sto godendo? Come un atto questo è... No, se sei la parte incrossata la parte più. Oh mio zio ti stia facendo mezza padella. No vedi tu, vedi tu Luca. Non so se vuoi arrivare a metà. No, perché a noi ci lascia i gamberi, capito? A me le conchiglie, lui le gamberi e via. Le conchiglie. E stanoce si parla solo in spagnolo. Ci può a 31 anni portare i bambini in disco? Lui dice il vecchio disco. Boia! Che figo zio! Vai Leo, conquista le tute! Guarda Leo, guarda! Conclusioni, conclusioni! Abbiamo... Un contatto! Più contatti!